Quella che c'è stata stasera credo che sia un'iniziativa che personalmente mi riempie di gioia, mi riempie d'orgoglio. Un qualcosa che, come ho detto prima, vorrei condividere con ogni singolo cittadino. Consiste nel fatto che avere un apprezzamento, in qualche maniera un contributo dovuto alla loro presenza, di tutti i sindaci del territorio limitrofo. Questo ovviamente è un segno che dobbiamo confrontarci, vogliamo, dobbiamo confrontarci, che sia di buon auspicio per il futuro, quello di condividere, di essere vicini, di sentirci un po' più protetti reciprocamente. Quindi non c'era un'occasione migliore che il Natale di fare questa cosa e di condividerla con tutti i cittadini. Una vera ripresa perché fino a qualche mese fa sembrava che non fosse possibile che diverse persone, che fino a ieri sono state avversarie, ma letteralmente avversarie, si sono messe insieme e hanno fatto qualche cosa di veramente diverso. Tutte le energie sono state utilizzate per remare nella stessa direzione e questo è il risultato. Un Natale di ripresa dove veramente c'è stata una svolta, abbiamo un corso molto più pulito, molto più bello, siamo riusciti a radunare risorse per oltre 60.000 euro, radunate così all'ultimo minuto per poter permettere di realizzare questa iniziativa che deve essere un segno evidente per tutta la popolazione.